E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo qui su Planet Crafter Che siamo andati a fare nell'ultimo video L'estrattore di minerali Voglio tornare lì a vedere se magari Cos'è là in alto? Vabbè andiamo a vedere il nostro Quarry Se ha trovato degli altri minerali Questi li estrae ogni 70 secondi ragazzi Ferro, magnesio e cobalto Certo che fa un rumore assurdo Ghiaccio, titanio Oh una cestica Alluminio Devo andare a recuperare energia Ragazzi Vuoi vedere che ci muoio? Dai, 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 che ci arrivo Dai, che ci arrivo, dai, che ci arrivo, dai, che ci arrivo Ah, giusto, giusto ragazzi Intanto abbiamo preso anche Tre, no, quattro di alluminio Ottimo, semi di fungo Uh, nuovo cibo Abbiamo anche il cibo spaziale Fammi vedere il Quarry che ha trovato Solo il video Beh, sì, ci mette ogni tot di secondi Comunque adesso ragazzi Volendo lo posso fare anche a casa, giusto? Manca l'osmio Manca l'osmio che si trova Sopra quella nave Ce la dovrei fare ad arrivare Anche perché ho un'unità abitativa qui, eh Eccola qui Intanto vi ricordo di abbonarvi al canale ragazzi Io quasi quasi la voglio mettere qua Che in modo tale che ci fornisce l'osmio Manca un altro osmio Dai, fammelo spawnare Oh Zulfo Che mi manca più L'asta di ridio E basta Andiamo a prendere Di ridio ragazzi Che ci facciamo l'asta Che poi torniamo A casa E andiamo a mettere L'altro Quarry Di là Andiamo a mettere Un altro pannello solare Che possiamo farlo Visto che teniamo L'alluminio Andiamo a recuperare Un po' di ossigeno Andiamo a bere Una bottiglietta D'acqua Siricio Ferro Ferro E cobalto Titano Sicilio 1,2,3,4,5,6,7,8 E 9 Ok, possiamo andare A casa Ragazzi Così ci andiamo A creare L'asta Di ridio Alla creazione Di avanzata Posiamo Questi materiali Torniamo Dove è l'osmio E ragazzi Ci andiamo A fare L'estrattore Di minerali Anche lì Oh Biolaboratorio Nuovo progetto Ricevuto Bello Questo lo vedremo Penso Nella prossima puntata Ragazzi Ce la dovrei fare Ad arrivare Comunque Questo jetpack Ragazzi È una grandissima Invenzione È una grandissima Cosa Ok Andiamo a fare Ragazzi Il query Anche dove è l'osmio Per il pannello solare Ce la faccio Ferro Magnesio Manca un altro Cobalto In Sicilio Sicilio Cobalto E ce la dovrei fare In caso Non va Non fare Estrattore Di minerali Il query Anche di là Anche l'osmio Anche l'osmio Andiamo a recuperare un po' di ossigeno ragazzi Ah vedete Ci ha creato proprio l'entrata adesso E andiamo a mettere No Ho pensato a tutto io Cavoli e non mi dire che non ce la fa con la corrente Manca Cobalto, cobalto e magnesio Manca il magnesio Eccolo Andiamo a recuperare un po' di energia E' corrente fu ragazzi Abbiamo l'estrattore di minerali Anche Alla zona d'osmio Qua c'è il ferro però sopra Vabbè che comunque mi da I materiali principali Direi che andiamo a vedere adesso L'altro query A che punto sta Andiamo a salvare la partita ragazzi E poi ci andremo a fare Un altro estrattore di minerali Vicino casa Qua ha trovato qualcos'altro? No Andiamo a vedere quello All'iridio Prendiamo un po' di ossigeno E andiamo ragazzi Così abbiamo due estrattori di minerali Ce ne facciamo un terzo vicino casa Ma là ci sono anche altri acciai Poi andremo a vedere anche di là Se abbiamo sbloccato delle nuove aree Vediamo questo query Eeeh Ferro Iridio Cobalto Cavolo Tutti i materiali basi Tranne L'alluminio Tranne l'alluminio Questo Ghiaccio Ghiaccio La tempesta di sabbia Questa è la prima Questa è la prima tempesta di sabbia Che vedo Spargitore d'erba Possiamo fare un altro di questo Mi serve il magnesio Ecco Ecco Semi di l'alluminio Semi di lirma E due bottigliette d'acqua Mangiamo Semi di l'alluminio Semi di l'alluminio Semi di l'alluminio E la corrente E la corrente E la corrente se ne va Mannaggia Posso fare questo G1 Manca un altro Cobalto Andiamo a prendere il ghiaccio Che beviamo Ok E la corrente fu Ragazzi Ragazzi Ma volendo Ne posso fare anche un altro Un altro Cobalto E un altro Sicilio Giusto? Si E la corrente fu E la corrente fu E la corrente fu E la corrente fu Andiamo Andiamo a fare un altro Generatore di corrente Ok ragazzi Che avevamo Che avevamo sbloccato Vaso di fiori Posizione Posizione Insieme Al suo interno Per far crescere I fiori All'interno E Magnesio Cobalto E fertilizzante Fertilizzante Ce l'ho io? Sai che non lo so? Mi sa di no Ah fammi andare A posare Questi Materiali Laborato Biolaboratorio Due osmio Tre superlega Alluminio Ok Andiamo a posare Questi Materiali Abbiamo disponibile 12 kilowatt Come possiamo vedere Qui stanno salendo Rigorosamente La biomassa Sta salendo Piano piano Il prossimo step È l'acqua Allo stato liquido Uh Si può berla Riscaldatore G4 Allora Titanio Ferro Iridio Titanio Ferro 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 Zulfo Ok 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 ragazzi Noi ci vediamo In un prossimo video Mettete vi piace Commentate Iscrivetevi al canale E niente Ciao a tutti e belli Ciao a tutti Eu Grazie a tutti.